buongiorno a tutti innanzitutto grazie agli amici di italia insurtech association per l'invito a questo summit 2022 il cui titolo è raise the bar in termini di insurtech e come gruppo elvezza volevamo condividere con voi alcune riflessioni sul tema della digital bank assurance partendo da una domanda semplice perché parliamo di digital bank assurance una risposta altrettanto semplice a parole meno nei fatti perché il mercato assicurativo ormai lo sappiamo ci stiamo dicendo da anni è in completa evoluzione anzi forse rivoluzione e del modello della bank assurance deve adeguarsi in tal senso qualche considerazione iniziale sappiamo che in ambito bank assurance oltre a fianco al tema consolidato dell'offerta vita soprattutto prodotti investimenti assicurativo sempre più la protection si sta affermando e le potenzialità di crescita sono enormi la normativa sempre più ci impone una prova da governance completamente diversa ponendo l'attenzione su la conoscenza del cliente l'evoluzione tecnologica sappiamo che sta completamente costantemente cambiando i modelli di user customer experience la pandemia un po restia a lasciarci ma sicuramente qualcosa di positivo ce l'ha lasciato è proprio la crescente attenzione sui temi di protection in estrema sintesi tutto ciò sta cambiando nettamente modificando la catena del valore assicurativo e soprattutto sta facendo sul modello d'offerta il modello di distribuzione un modello di distribuzione che sarà sempre più figital integrando o fisico e digitale e andando sulla banca assurance particolare a fianco alla distribuzione in filiale tutte le forme di distribuzione attraverso un banking mobile banking piattaforme di open banking quindi su questo vogliamo porre l'attenzione come gruppo ilvezia abbiamo lavorato molto in questi anni abbiamo trasformato il nostro modello di bank assurance un modello integrato di distribuzione fisica e digitale abbiamo iniziato a lavorare sulla digital bank assurance nel 2018 e oggi i nostri distributori in alcuni casi propongono la digital bank assurance integrata nel modello tradizionale altri come il caso dei limiti esclusivamente come modello distributivo un modello una digital bank assurance nelvezio che ha un modello di offerta dedicato focalizzata al momento sulla protection sul segmento retail ma anche sempre di più sul segmento pmi e che si ha un punto centrale nel suo modello operativo con una piattaforma tecnologica dedicata al mondo insurans che si integra la parte di distribuzione delle piattaforme di home banking e mobile banking con i sistemi tecnici di compagnia ponendo un pochino più l'attenzione sulla genesi su come è andata lo sviluppo di questo del progetto digital bank assurance in questi anni nelvezia ma mi sento di dire che è un po un tratto comune al mercato ci siamo focalizzati siamo partiti intorno al 2018 2019 focalizzandoci esclusivamente sul modello distributivo abbiamo cercato di sviscerare tutti i temi di compliance legal tutti i temi tecnici assuntivi che avevano un po' caratterizzato l'offerta digitale fino a quel momento focalizzata praticamente quasi in via esclusiva sul mondo auto fatta questa parte dal 2020 fino ad oggi ci siamo e ci stiamo focalizzando sulla parte di execution quindi prodotti processi sempre più complessi sempre con un maggior grado di coinvolgimento di attori fino ad arrivare che nel caso ad esempio di elvezza nella sua esperienza con i limiti a essere il primo caso sul mercato per una user experience completamente digitali su prodotti come una temporanea caso morte per il canale retail piuttosto che una cpi per il cara per il canale per il target scusate pmi che addirittura andando a integrare una piattaforma di un'attività core del mondo banking come sono i finanziamenti a una piattaforma di emissione assicurativa che si integra con un sistema di back end assicurativo il tutto integrato da un sistema da un provider di firma elettronica quindi complessità sempre maggiore però sempre ci siamo focalizzati sull'execution e nel frattempo sul aggiornamento del modello operativo a questo punto qual è il prossimo passo qui davvero dobbiamo alzare l'asticella dobbiamo guardare un altro ambito della digital bank assurance che è la relazione con il cliente perché innanzitutto secondo noi è una scelta obbligata la digital bank assurance nello scenario assicurativo 2030 perché sarà la bank assurance un punto centrale del mercato assicurativo oltre che rispetto al consolidato mercato dei prodotti investimento assicurativo proprio sulla protection e non solo con riferimento al canale retail ma anche con riferimento al canale delle al target delle pmi per fare questo però secondo me dice la bank assurance deve fare un ulteriore passo un ulteriore passo che le consenta non tanto di essere un verticale assistente che produca più numeri più premi di quelli di oggi ma in realtà che le consenta di essere un driver determinante nel contesto complessivo della bank assurance contribuendo in modo significativo alla concretizzarsi delle potenzialità che sappiamo esserci sul mercato della protection e favorire aiutare un ulteriore incremento in ambito market share dei prodotti ibips per fare questo cosa dobbiamo fare dobbiamo lavorare sulla sulle logiche modelli di customer relationship sui modelli digital affiancando all'esperienza digitale sempre la presenza umana in qualsiasi momento un cliente può avere a disposizione a sua scelta un supporto umano dobbiamo lavorare molto sulle piattaforme di customer digital engagement per far sì che il cliente come in filiale come nelle istituzioni fisiche c'è il collega il promotore che lo aiuta lo guida nelle sue scelte qua lo dobbiamo guidare in modo digitale e dobbiamo lavorare sulle partnership le partnership nel mondo della digital bank assurance sono sempre più integrate dovuto alla complessità dei progetti dei processi dobbiamo creare delle partnership che abbiano tra gli attori alla base una visione comune visione strategica dobbiamo conoscere sempre di più il nostro cliente in modo sempre più approfondito e conoscere quindi costruire una parte di un modello di offerta sempre più adeguato ma questo consentitemi forse la parte più facile la digital bank assurance dobbiamo tenerla conto anche non solo come in termini numerico ma anche come un fattore un acceleratore di innovazione soprattutto per l'ambito assicurativo in modo che poi possa essere portato sul mercato assicurativo a 360 gradi in sintesi vediamo nella digital bank assurance un ruolo determinante nell'ambito bank assurance con visione obiettivo 2030 per fare questo dobbiamo alzare l'asticella l'asticella si alza secondo noi affiancando e puntando focalizzando l'attenzione non solo sulla parte di execution non solo sul costante aggiornamento dei modelli ma sulla sulle attività sulle logiche sui modelli di customer relationship grazie e a presto